Se vuoi vincere una skin, un ballo o un piccone, bene, iscrivetevi a questo canale, lasciate like a questo video, in commenti, hashtag partecipo Bello giudificati, questa è XS, è tornato in questo nuovo video perché oggi vi mostro i 5 picconi più rari di Fortnite Ma come sempre, prima di iniziare ogni video vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivare la campanella, seguirmi su Instagram perché lì rilascio il nome dei vincitori della skin del contest, SAX-TM, link in descrizione, seguitemi tutti perché lì rilascio il nome Che regà il primo piccone che vi mostro è uscito nella season 1 insieme allo school trooper e il goal trooper, cioè la skin del teschio e la skin del goal Questo piccone è uno dei miei preferiti, purtroppo io non sono riuscito a prenderlo perché mi sono preso il desperado, il falcestrello al posto di questi picconi perché ero molto intelligente allora Quindi mi sono preso quei picconi e quella skin, ho fatto una cavolata, sì lo so, non riproveratemi E ho preso quindi quei picconi al posto di questo bellissimo piccone che si chiama il Reaper che sarebbe poi la falce Anzi vi dirò molto di più, questo qua non è il mio primo piccone preferito, il mio primo piccone preferito è sempre un piccone della season 1 però non è questo, il mio piccone preferito è questo qua Eccolo qua, il piccone dell'inculsore rinnegato, non mi ricordo il nome del piccone, purtroppo mi sono dimenticato, se lo sapete scrivetelo nei commenti E regà questo piccone è il primo piccone della season 1, si sbloccava a livello 35, doveva essere a livello stagionale 35 per sbloccare questo magnifico piccone Il terzo piccone che vi mostro è un piccone della season 2 che si sbloccava a livello tipo 50-40 della season 2 Questo piccone si chiama ACDC, un nome molto significativo per questo piccone che ha un valore proprio affettivo nel mio cuore Perché quando l'ho messo per la prima volta faceva un rumore della madonna, poi dopo con le patch lo hanno sistemato Meno male, perché regà, quando spaccavi con questo piccone faceva E' entrato che tu spaccavi un albero, ti trovavi 40 persone lì di fianco che ti guardavano e lì eri letteralmente fattuto Ok regà il quarto piccone che vi mostro in questo video è uscito proprio ieri nello shop, però non l'ho comprato Non l'ho comprato perché non mi interessa così tanto, non è che mi piace così tanto Però comunque questo piccone è uno dei più rari del gioco Perché è uno dei più rari del gioco? Perché fa veramente schifo Cioè magari non è che fa tanto schifo, però non è così bello Perché quando è uscito a Natale, perché questo piccone è uscito a Natale e solo per questo volevo comprarlo E... faceva schifo a Natale e adesso solo perché è vecchio dovrebbe essere bello Però non mi piace lo stesso, quindi regà non voglio neanche comprarlo Però comunque solo perché è di Natale ti viene voglia di comprarlo Però poi pensi che fa schifo quindi non lo compri Poi un'altra cosa non capisco di questo piccone Perché si chiama stuzzicadenti? Ma se mi stuzzico i denti con questo mi spacco tutto Cioè proprio mi ritrovo senza denti, non stuzzicadenti Mi stocco tutti i cosi, tutti i cosi Ok regà passiamo all'ultimo piccone L'ultimo piccone è uscito nella season 1 verso ottobre-novembre Sì, questi mesi qua È un piccone veramente molto carino a parer mio Perché è una mazza da baseball attaccata a una falce O una falce attaccata a una mazza da baseball Sì, comunque è questa cosa qua che vi ho detto E diciamo che è molto carino perché ricorda molto la falce La falce è quella dello scheltro che abbiamo mostrato all'inizio video E ricorda molto quella anche il rumore quando spacchi Che fa in e in Difatti se spaccavi qualcosa a parco pacifico Ti sentivano fino a borco bislaco Vabbè, non esageriamo, era solo per intendere che fa tanto rumore Vabbè, eccola qua la nostra mazza da baseball Con attaccata un falcetta Una falcetta che assomiglia Molto alla falce Quella del teschio Solo per questo gli fa onore questa falce E solo per questo mi piace a me Che poi questa qua si chiama falcistrello È un falcistrello molto carino Dai, un piccone molto carino Merita molto questo piccone Per me questo piccone merita veramente tanto Perché è bello Perché è bello, basta Merita molto perché è bello Ok ragazzi, spero che questo video vi abbia fatto almeno un po' sorridere Visto che faccio delle battute molto belle No, non è vero però Spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video Seguitemi su Instagram Perché la rilascio il nome del vincitore della skin Del contest che sto ancora facendo Quindi sì, lo sto ancora facendo Mi raccomando, lasciate un bel like al video Iscrivetevi, attivate la campanella Per vedere sempre i miei prossimi video Perché sono molto utili, i miei video sono molto belli E se conoscevate i nomi dei picconi che io non conoscevo io Scrivetelo nei commenti E se non li conoscevate i picconi Scrivetemi Non li avevo mai visti Oppure li avevo visti Non conoscevo il nome proprio come te Ok ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ah no no, aspettate Peccatevi questo video Questa clip che vi sto lasciando adesso Perché ho fatto due kill Con un colpo di pompa Cioè One Colpo Two Kill Devastante Bella Ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.